Ma che avete combinato? Ma che abbiamo combinato? Ma qua se c'è qualcuno che non sa manco mettere sempre riservativo, quello è il vostro figlio. Cambiarle i pannolini, stare svegli la notte, non ce la possiamo fare. Kate, ascolta proprio il tuo. Tu sei l'unico italiano che sei riuscito a far lasciare da una rumena. Ma chi gliel'ha fatto fare questa ragazza a mettersi con lui? La nostra figlia cedeva il nome che è tipo una parola magica che nei momenti brutti la fa volare su sto casino che è rumore. Tipo una piuma. Ecco, piuma si dovrebbe chiamare. Ecco, piuma si dovrebbe chiamare.